Generale De Vito, siamo in Piazza della Rinascita Pescara per presentare questa importante cerimonia che ci sarà domani con l'arrivo qui a Pescara della fiaccola della Prima Guerra Mondiale. Certamente, una cerimonia importante, un progetto di ampio respiro fortemente voluto dall'esercito nella ricorrenza dei cento anni dell'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale e per rivitalizzare in tutti e soprattutto nei giovani frequentatori degli istituti scolastici dove ci sono state una serie di conferenze quell'identità nazionale che va riscoperta con tante iniziative, una staffetta che ripercorre idealmente quel progetto, quelle attività che hanno svolto i nostri soldati per raggiungere a suo tempo Trieste, che parte dalle varie regioni italiane, percorrerà anche la nostra dove vi è stato un contributo notevole di sangue da parte degli abruzzesi, ma oltre a questo attività promozionali come questo sempre per riscoprire l'identità, per far conoscere ai più giovani i valori, i sacrifici fatti dai propri avi e in questo contesto verranno consegnati nella giornata di domani anche degli attestati, i cosiddetti stati di servizio o fogli immatricolari che costituiscono tutto ciò che è la vita, il vissuto dei loro avi. È un'iniziativa notevole grazie all'amministrazione comunale, ringrazio il signor sindaco di Pescara Marco Alessantrini per tutto il contributo che ha dato, ma è un trend in divenire che segue il grande evento che c'è stato all'Aquila, la donata nazionale degli alpini di cui tutti avete potuto constatare veramente la portata. Sette milioni di italiani scoprirono la patria forse per la prima volta. Contadini, operai, semi-analfabeti coinvolti in quello che fu allora il più grande conflitto della storia dell'uomo. Poi uno pensa di vedere sempre il peggio, di aver visto il peggio e poi nel 1939 scoppia la seconda guerra mondiale. Ed è importante questa fiaccola che è una staffetta della memoria per tramandare i valori dei nostri avi, come ha ben detto il generale, perché insomma al di là di ogni retorica io credo che ci sia davvero bisogno di recuperare un sentimento di identità nazionale.